Il setter irlandese rosso, conosciuto anche come setter irlandese, è considerato uno dei cani più belli del mondo grazie alla figura elegante e il pelo rossiccio. Anche se in origine era un cane da caccia, la sua bellezza lo rese sempre più famoso alle mostre canine. In questo video di Animalpidia potrai conoscere tutte le informazioni di cui hai bisogno per sapere come accudirlo se hai un cane di questa razza o se stai pensando di prenderne uno. Da non perdere! Nel XVIII secolo esisteva un tipo ben definito di setter irlandese, rosso e bianco, molto usato per la caccia di uccelli. Fu all'inizio del XIX secolo che si iniziò ad allevare setter completamente rossi. Nel 1862 circa, in un allevamento, nacque un cucciolo con caratteristiche non adatte per la caccia. Aveva la testa più allungata ed era più delicato e gracile, per cui l'allevatore decise di soffocarlo. Per fortuna però, un altro allevatore vide il cucciolo lo salvò. Questo cucciolo, di nome Champion Palmerston, crescendo divenne una vera e propria star nelle mostre canine. Ciò cambiò completamente la storia della razza, perché Champion Palmerston ebbe molto discendenti e divenne lo standard ambito dagli allevatori, che non erano più cacciatori, ma appassionati della razza. Prima di continuare, non dimenticare di iscriverti al canale di Animalpidia per rimanere sempre aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Il setter irlandese è un cane alto, elegante e slanciato, dal pelo setoso, rossiccio molto caratteristico. Il corpo è atletico e ben proporzionato, mentre la sua testa è allungata e magra. Il cranio è ovaleggiante e lo stop è ben definito. Il pelo del setter forma una frangia su orecchie, petto, ventre, parte posteriore delle zampe e coda. I maschi misurano tra 58 e 67 cm, mentre le femmine tra 55 e 62 cm. Non esiste un peso ideale, ma si aggira intorno ai 30 kg. In generale, il setter irlandese è allegro, indipendente, socievole e curioso. È intelligente e gentile, ma ha un forte istinto alla caccia. Sono cani facili da socializzare con adulti, bambini, altri cani e anche altri animali. Se ben educato, il setter irlandese non ha problemi comportamentali, ma bisogna tener conto del fatto che è un cane molto attivo, che ha bisogno di fare molto esercizio fisico, altrimenti soffrirà di stress e svilupperà comportamenti distruttivi. Per mantenere il pelo in ottime condizioni, morbido e senza nodi, dovrai pettinare il cane tutti i giorni. Dovrai lavarlo solo quando è molto sporco e i lavaggi non devono essere frequenti. Come abbiamo già detto, il setter irlandese deve fare molto esercizio fisico e non è sufficiente una passeggiata breve portandolo al guinzaglio. Le passeggiate devono essere lunghe, attive, con giochi e corse. Anche la stimolazione mentale sarà fondamentale per il benessere di quest'animale. Sono cani intelligenti, per cui imparano facilmente molti trucchi e comandi, anche se tendono a distrarsi facilmente a causa del forte istinto alla caccia. Per addestrare questo cane quindi ci vuole molta pazienza e ovviamente dovrai usare sempre il rinforzo positivo. Se vuoi sapere come educare un cucciolo, non ti perdere il nostro video sull'educazione canina. Purtroppo per il cane per i padroni si tratta di una razza che è stata sottoposta alla selezione artificiale, per cui l'incidenza di malattie ereditarie è alta. Le più comuni sono atrofia progressiva della retina, displasia dell'anca e torsione dello stomaco. Per individuare e prevenire la comparsa di questi problemi di salute, si consiglia di effettuare visite veterinari regolari ogni 6 o 12 mesi, nonché di seguire correttamente il calendario di vaccinazioni e sverminazioni fissato dallo specialista. Se ci ne prenderemo cura, il nostro setter potrà accompagnarci tra i 12 e 15 anni. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi! Non ti sembra una razza stupenda? Ah, e se ti è piaciuto il video e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like ed iscriverti al canale! Alla prossima!